in modo che Marley possa vivere veramente una vita a colori e questo messaggio ci tengo a portarlo avanti soprattutto perché purtroppo se un cane in canile è un ultimo, un cane con handicap in canile è un ultimo degli ultimi i cani con handicap sono sempre scartati e noi proprio per dimostrare che la disabilità sta solo negli occhi di chi guarda ogni giorno raccontiamo la nostra vita sui social attraverso la pagina Facebook e Instagram Marley Supercane dove facciamo vedere quello che un cane cieco può fare, può fare veramente tutto perché Marley gioca a pallone salta i fossati, sale e scende le scale tanto che durante il Covid lui è riuscito a recapitarci le medicine quando Marco era in ospedale e io impossibilitata a uscire perché è positiva e non per ultimo è il primo cane cieco in Italia a far parte della protezione civile ciao